come mai ultima live seriamente sono arrivato da poco chi non sa come mai me ne sto andando dica io 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 ma come le 5 cose che non lo farei più boh ma vivi in una nave questa mi mancava no ok lo dico per l'ultima volta mi sto prendendo 2 3 7 mesi da twitch ciao marcolino con questi 20 mesi ti auguro una buona pausa un bacino grazie mille caverna di platone sto per mettermi a piangere sto dando il mio addio ai ragazzi visto che fra qualche oretta questa sarà la mia ultima live poi manco per due mesetti circa forse di più non si sa ciao a tutti ragazzi ciao salutate il caverniculus si allora mi prendo questi 2-3 mesetti 4-6 per sempre non torno più perché la vivo un po' come una vacanza quindi renderò una vacanza anche se monterò un grandissimo video che durerà mezz'ora parlerà del politicamente corretto sarà uno di quei video con le immagini che mi rese famoso al tempo e sono i video più difficili da montare nonostante per me più soddisfacenti da vedere una volta montati ci vuole tanto tempo ragazzi tanto tempo il video sullo stupro era 4 ore ogni minuto di video montato io dovevo per ogni minuto montare all'incirca 4 ore che potevano fluttuare a 6-7 se mi veniva una strana idea strana da animare o da fare in quelle immagini là però in media si 4-5 ore per minuto ed era tempo fa oggi è diverso monto un po' meglio voglio fare sempre un po' di più quindi vediamo che succede ciao Marco mi mancherai comunque grazie a te ho imparato ad essere un gay pur essendo etero grazie mille tanti bacini sono fiero di te Antonio Palardo grazie mille porca troia non lo vedo come un lavoro ragazzi è veramente lo se mi piace ma mi serve molto tempo e come ho detto molte volte nel live precedenti io non posso fare live mentre monto questo video qua perché vi porto sulla mia nave immaginate questa vita in cui devi montare questo video e questo video qui ogni minuto di montaggio è 4-5 ore questo vuol dire che ogni secondo sono un sacco di minuti che devi impiegare a montare questo secondo a volte un secondo è anche mezz'ora può durare entri in un workflow molto particolare dove devi costringerti a stare al computer a me viene una brezza perché è la cosa che mi piace più fare ma quando e questa cosa ve la posso dire con un'esperienza di 13 anni ormai che faccio questo lavoro quando metto quando metto altre cose nelle mie giornate che siano diverse da questo video qua soprattutto che mi facciano uscire di casa il workflow si distrugge perciò devo farlo tutto in una volta sempre devo montare per forza un tot di ore ogni giorno e perché ci vedo anche una poetica ci vedo una bellezza nel entrare nel digi world porca madonna e finire questo cazzo di capolavoro a livello di tempo che ci vuole a farlo poi magari è bruttino però odio i video che spiegano e questi video spiegano quindi per abbassare l'odio dei video che spiegano devi montarli bene devi mettere tante cose devono essere stupefacenti ogni frase deve essere un'idea quindi tu devi inventare ogni ogni frase che dici devi inventare qualcosa tipo questa ogni frase che dici devi inventare qualcosa ogni frase magari evidenzi un po' le frasi che dici faccio parlare la bocca devi inventare ogni cosa c'è per ogni frase una lampadina è molto figo e devi farlo con tutte le frasi con tutte le situazioni di cui stai parlando e in più è del politicamente corretto è il motivo per cui ho reso il video politicamente corretto non ci sarà nessuna parolaccia nessuna volgarità non ci saranno bestemmie e che verrà valorata questa mancanza dal fatto che ci saranno le immagini e la posso essere arrabbiato la posso mostrare senza parlare la rabbia che ho dentro verso quello che è un mondo che non mi piace più come prima quello di internet che comunque mi ha formato e ci ha formato e ci ha fatto diventare amici e quante cose belle sono successe perciò è un video così importante ed è il motivo per cui mi sto prendendo questa pausona questo è uno dei motivi l'altro motivo è che mi voglio fare una vacanzina scendo in Sicilia con Martina le faccio vedere un po' qua è dove ho trombato la prima volta qua è dove ho fatto sesso a mia madre qua è dove ho preso i primi soldi questo è il primo posto dove ho rubato a Messina qua ok qua mi hanno portato in questura qui tanti posti ciao Baffo ciao Bambolino mio è sempre bello vederti sto studiando per l'esame di maturità e ti ringrazio per la compagnia so che non te ne frega ma ehi grande bacione omosex ti voglio bene mi interessa anzi grazie e buona fortuna mi mancherai un piccolo bacione Gaddafi grazie Luca lo stronzo ah eccolo ciao Marcolino sono Luca lo stronzo ciao Luca la mia compagna Alessandra ha deciso di fare un tuo ritratto sulla quale ha speso molte ore fammi vedere dato che è la tua ultima live e avremmo voluto vedere la tua reazione vorrei mandartela ora su Instagram mandamela un bacione che bello e vai che bello l'ultimo regalino Marco se ne pensi del gameplay di FNAF ma che cazzo me ne frega scusami bello stanno facendo anche un altro gioco grazie a Siluro per tutte le emoji Nico xbox questo abbonamento ti servirà per sopravvivere Marcolone grazie un bacino e un pisellino grazie non avete idea quanti soldi mi servono infiniti fortunatamente questo video non costa soldi sarà free saranno solamente guadagnati quello dello sponsor e della monetizzazione ma comunque se non mi baci oggi prima di andartene fatto te li meri di tutti grazie Sofia sarei il più attivo su Instagram durante questi anni in cui sarò assente sarò assente mesi non anni ma certo in più ragazzi io ci sarò sempre in live di Daniele dovremo solamente abbandonare questo voglio farlo bene safe place questa sauna ma vabbè sì ci sarò sempre da Daniele e sto pensando a dei format con cui tornare sto per vomitare che schifo di frase torno con dei format ma devo farlo perché devo sembrare uno di quegli streamer ragazzi ma che cazzo ma che cazzo devo dire ma che cazzo devo dirvi ragazzi i format ciao Marco buona vacanzina 3,5 baci per te minore 3 minore 3 minore 3 minore 3 mezzi grazie 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 ma Daniele fa le live su youtube canale sdrumox sì siamo sempre là e cambia l'intro delle live per favore cosa cazzo vuoi dire alla mia musica comunque sì avrò un'altra intro ma cosa cazzo vuoi dire al mio cosa cosa cazzo vuoi dire a questo no Marco tutto ma non i format ciao Marco ogni giorno mi ricordo del bel momento che ho passato all'Etna Comics quando ti ho visto comunque non vedo l'ora che esca il video e spero che ti divertirai in vacanza segno delle labbra segno delle labbra non labbra segno delle labbra va bene grazie a Mati e grazie a Lud dei Marco perché odiate i format perché oggi ragazzi momento film e se voglio spararmi una pera dove vai in vacanza sei ricco vado a Messina sono triste vattene a funcure sbaglio tutto rifà l'impegno di la sagoma la sagoma delle live ti prego io ho una sigla che dovevo usare cento mesi fa la userò cento mesi fra cento mesi poesia dell'abbandono ciao Marco ti scrivo una letterina cercherò di farla tutto in rima tutta in rima semmai vabbè hai usato chat GPT la tua assenza per noi sarà la fine ma un nuovo inizio deve avvenire aspetteremo con ansia il tuo ritorno gingillando il pisellino tutto il giorno poco inclusivo ci sono anche delle vagine canterò le tue canzoncine come un usignolo porca madonna non abbandonatevi a Mario Sturniolo perfetto bella mi è piaciuta un po' così così ma si è molto ripresa alla fine oddio Norcos ciao Jov come stai come sono andate le live di Daniele su Kik format doppiaggio con set Marco o ci sei Marco si no ci sono ci sono ci sono shot no non farò nessun format di montaggio con set in più chi è questo set non lo conosco ok io ho pensato a questi format qua vi ricordate vi ricordate i tatuaggi che vi ho scammato a tutti per una sub succede questa cosa qua poi abbiamo fatto anche le patatine a me quelle robe divertivano un sacco venivo reputato una vera troia ma mannaia di quanto mi divertivo distruggere me stesso per la per l'intrattenimento altrui e l'unico prezzo era una sub perfetto mi hanno sempre mi sono sempre piaciute vorrei solamente farle un po' meglio come come vorrei un po' giustarlo come come format e vorrei farlo due volte al mese con sigla e tutto quanto poi ovviamente Scary Time che non può mai mancare e non so se unire sempre lo Scary Time al React Time o dividerle non lo so è sempre stato un mix che mi è sempre piaciuto fare reaction e subito dopo Scary Time quindi devo dire basta dire forma perdonami Fugo perdonami porterò dei che peggio contenuti porterò dei programmi ragazzi momento musicale con Pingus porterò anche quello tier list time ci starebbe tier list time sì mi piace ogni volta fare le tier list ci devo solamente pensare Marcormat non portare un cazzo uguale adesso tipo torno e non cambia niente eh bene programmi fa politico porterò delle azioni programmate in live peggio di peggio portando format muo mi impicco non impiccarti Nino Marco arriva il momento di parlare di Hot Hot no reaction a Dada no Marco qualche live random su Instagram durante questa vacanza così ci salutiamo un pochino e ci mandiamo tanti bacini PS mandi bacini cancelletti senza di te siamo tristi cazzos un bacino a tutti i cancelletti il lonfo ciao Marcone ci sono programmi speciali per quest'ultima live tier tre nomi di format che potresti portare no niente programmi speciali solamente un addio piangiamo e me ne vado ci vediamo fra due mesi tre nomi di format certo il ficchio il ficchio il ficchionno il ficchionno che sono io che vado in giro a baciare tutti i maschietti è il primo che si arrabbia finisce a live è proprio una di quelli che finisce appena si arrabbia questo è il ficchionno poi c'è il le live dell'armistizio che sono delle live dove faccio delle reaction ai giocattoli dei cinesi che hanno dei stranissimi nomi che è una bellissima idea penso lo farò le live dell'armistizio poi e poi ultimo ma non ultimo la la mangiata dei 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 nani tipo mangiamo ma siamo tutti in ginocchio in un tavolo basso non siamo né seduti né in piedi siamo in ginocchio e mangiamo semplicemente te le rubano shhh l'importante è che non mi non mi rubino le le a